Ciao a tutti dal vostro caro Max Rando! Ok ragazzi, oggi siamo tornati sul nostro server preferito, Cubecraft, pronti a giocare alle Skywars! Perché ragazzi, in questi giorni mi sto fomentando e ne ho vinta solo una, ma comunque io sentirò di vincerla qui nel video insieme a voi! Allora, teniamo uno scioppone qui di lato, vabbè, allora iniziamo, allora qui che cosa possiamo trovare? Possiamo trovare un piccone in diamante con efficiency 3, vabbè, ci può stare! Quindi ossiamo questo e poi questo e abbiamo trovato una spada in legno, mamma mia, quasi quasi è meglio il piccone! What the fuck? Ma quanto puoi essere stupido, stupido scemo! Ma questo spamma! Sono stupidino, spamma! E vabbè, tanto mo' ti uccido io e ti rubo la spada, grazie, gentilissimo! Stiamo a mangiare un attimo, qui ci stanno delle palle di neve, come ho fatto a non prenderle? Non lo so! Oh, però sono stato stupido, non ho preso il kit! Ho solo 5 blocchi! Problema! 8 suono di combattimento! Oh cacchio, non mi dire che quei due sono in team! No! Non possono stare in team! E poi perché hanno la stessa identica skin? Addio! Ecco, mo' c'ha paura di me! Perché io ho ucciso il suo amico! Adesso sicuramente farà leave! No, non l'ho preso! Non l'ho preso! Ma muori! Ok, l'abbiamo ucciso! Abbiamo ucciso una squadretta di nabbi che vogliono... Magna! Magna la mela d'oro! Vai! 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 Ok! No! Sto brutto! Sto brutto! No! 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 Ha ha! Vabbè! Ci abbiamo provato! No! Questa mappa è quella là proprio brutta e cattiva! Quella è proprio... Proprio che... Eh! Ok! Allora iniziamo! Troviamo subito una squadra in diamante! Benissimo! Top! Ok! Vediamo uova di tutto! Questo non ci serve! Più che altro ci serve l'acqua! Sapete voi perché! Andiamo qua! Cosa possiamo trovare? Troviamo dell'altra bella roba! Va bene! Prendiamoci tutto il legno possibile! Perché comunque sono blocchi! E a noi i blocchi ci servono! Ok! Siamo full armatura! Va bene! E perché sento qualcuno che spacca del vetro? E perché non ho preso nuovamente il kit? Oh! È una cosa proprio fissa! Max non deve e non può prendere il kit! Ok! Lì al centro ci sta uno che sta laggando a bestia! Ma mai sottovalutarli! Le persone che laggano! Se non mi sbaglio adesso dovrebbe essere anche morto! No! Vabbè! Allora sai che ti dico? Io gheppolo e mi butto in mezzo! Ma muori! Muori! Oh! Questo è bravo nel pvp! Voglio fargli un bel critico! No! Aspetta! Scappa! Scappa! Questo è bravo! Questo è bravo! Questo è molto bravo! Complimenti! Complimenti a te! Sei gheppolato! Sei gheppolato il brutto ciccione! Sei gheppolato! Ti voglio buttare giù! Assolutamente! Assolutamente! Qua! No! 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 Recupera! Le palle di neve! Che vuoi fare con le palle di neve? No! No! Perché? Potevo fare la water mlg! Vabbè ma tu nell'azione mica ci pensi a queste cose! Vabbè dai! Anche questa volta l'acqua! Se usavamo l'acqua adesso eravamo salvi! Ok adesso non ce lo mica dimentichiamo di prendere il crit! Mica ce lo dimentichiamo eh! Mica ce lo dimentichiamo! Ok adesso siamo pronti! Ci abbiamo già 20 blocchi! Quindi vabbè ci sta! Vai prendi tutto! Vai così! Ok! Indossiamo l'armatura e non piazziamo blocchi a caso! E come al solito Max non trova una spada! Perché ormai ogni partita che si rispetta o almeno quasi tutte le partite che si rispettino Max non deve trovare una spada! Però deve trovare dell'arma! Non c'è morto! Oh! Ho ucciso tutti e due! Mamma mia! Troppo potente! Sono troppo potente ragazzi! Ho ucciso due persone solo con le palle di neve! No vabbè allora tu Tu non so se hai capito Con chi è che ha a che fare Adesso io vengo vicino a casa tua Sempre se non... Cacchio! Andare di qui! Ok! Vediamo se ci sta qualcosa di interessante nelle ceste! No! Vabbè! Andiamo di qua! Facciamo un altro bel ponte! Perché comunque nelle... Aspetta siamo rimasti solo noi due! Ragazzi! Cioè sono rimasto solo io e quello! Cioè tu mi stai dicendo questo? Ragazzi questa la vinciamo! Ok! Non abbiamo una spada! Però questa la possiamo vincere! Cioè avete capito che opportunità? Se questa non la vinciamo ragazzi! Io davvero non so cosa fare e dire! Ma che vuole fare con le palle di neve? Ok! Prima il colpo della grazia! E ragazzi! Chi è che vince? Chi è che vince? Max vince! Poh! Dub! E abbiamo vinto anche una bella partita! Mamma mia! Mamma mia! Troppo potente che sono ragazzi! Troppo potente! Vabbè ragazzi! Direi che per oggi il video può anche finire qui! Se vi è piaciuto mettete tantissimi pollici in su! Iscrivetevi al canale! E commentate se volete! Noi ci vediamo alla prossima! E... Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!